La telefonata alla centrale operativa della questura di Lecce è arrivata intorno alle due di notte. Due persone, un uomo e una donna, si erano introdotte in una residenza psichiatrica della città. All'interno della struttura, la coppia è riuscita a raggiungere le camere di degenza e a rubare due borse di altrettante pazienti li ricoverate. Gli agenti di polizia, già in servizio di controllo del territorio, sono immediatamente intervenuti quando chi si è accorto del furto, ha dato l'allarme chiamando il 113 e la volante è riuscita poco dopo a intercettare e fermare, non distante dalla struttura, la coppia. Si tratta di una donna di 36 anni di Lecce e di un ragazzo di 24 anni di poggiardo. Entrambi con precedenti sono stati accompagnati negli uffici della questura per il fotosegnalamento e per tutti gli accertamenti di rito e subito arrestati per il reato di furto aggravato in concorso. La donna inoltre è stata indagata a piede libero anche per evasione dagli arresti domiciliari, regime al quale era sottoposta.